Il parcheggio, la viabilità, perché nell'ora di punta, nell'ora in cui si portano i bambini a scuola o si riprendono, è un problema. È un problema veramente, siamo costretti a parcheggi di fortuna che si spera sempre non ci becchino. Se un tempo il vero grattacapo era rappresentato dal tema della sicurezza, con frequentazioni poco piacevoli, legate al vicino giardino di Sant'Orsola, oggi al primo punto dell'agenda delle priorità di piazza del collegio sembra esserci la questione viabilità. Viabilità intesa come flussi, come possibilità di accesso, come disponibilità di parcheggi e come delicato rapporto tra i residenti e i semplici frequentatori dello spazio urbano. In primis, i genitori e nonni degli studenti del convitto Cicognini, che ogni giorno debbono sottoporsi ad un gioco di incastri tra auto, per portare o riprendere figli e nipoti a scuola. Per trovare posto e piazzare la macchina senza fare triple file, molte di noi vengono molto prima per poter trovare posto. Spesso, purtroppo, i vigili urbani non aiutano. Lei diceva che è stato multato per riprendere il nipote? Stavo multato per cinque minuti, non che fermassi le macchine. Come ora sono queste? Come queste vede? Insomma, 38 euro per cinque minuti, insomma. Anche la velocità stessa, a volte le auto che passano quando non c'è scuola, è a volte troppo alta e quindi si potrebbe anche qui magari trovare qualche soluzione a riguardo. E il discorso anche del parcheggio, sicuramente non è affatto facile. Quindi sono sicuro che con tutti i cittadini e l'amministrazione si potranno studiare soluzioni che aiutino sia i genitori dei nostri alunni sia anche i residenti. Dal canto loro, anche i residenti chiedono una rimodulazione complessiva del traffico. E il pensiero va al nuovo parco urbano che sorgerà nell'area del vecchio ospedale e che potrebbe ridisegnare il profilo della zona anche in termini di sosta e mobilità. In realtà bisognerebbe progettare proprio qualcosa di più consistente per andare a riprendere e per portare questi bambini a scuola. Ripeto, questo tratto qui del parco Prato potrà essere magari un domani un posto dove lasciare perlomeno quelli non troppo piccoli dall'altra parte di Piazza Macelli per fargli venire direttamente a piedi qui. Nel complesso, Piazza del Collegio gode di buona salute. Salvo qualche isolato gesto di inciviltà, niente da segnalare ci dicono rispetto alla cura della piazza che resta un delizioso rifugio serale anche grazie ai ristoranti presenti.